Alle nostre spalle vedete il simbolo che rappresenta il Centro Servizi Santo Stefano, l'idea di un cuore che piano piano si amplifica generando, come un sasso lanciato nell'acqua, cerchi che cercano di diffondersi, coinvolgendo sempre più, orendo chiaramente Cristo, simbolo della Croce al centro, e che ritroviamo in ogni persona che si andrà ad incontrare, e che nel centro non trovano.